Signori capitolo 7, segui la luce, mo so cazzi Son cazzi amari, son cazzi amari, son cazzi amari Vieni, andiamo Vieni Salli, forza Dammi una mano Dammi una mano Ho detto prima io Di qua, vieni Ma che ste bestie ci mangino vivi No, ste visuali qui, no Che due coglioni Via 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 Finiti? No, ovvio che non sono finiti raga Ci mancherebbe altro Dove devo andare? Via Dona quanto odio quando non Non posso vedere dove andare Dai Di qua Via Ho perso tempi di gioco Termine calcistico che ci sta in questo frangente qui Su su preso piglielo piglielo salta toglimelo ok sei pulito io invece sei a posto stai bene? sì credo di sì ok là dentro non ci torniamo ma va ok segui la luce in realtà di luce qua c'era anche un'abbondanza di la verità però andiamo questo probabilmente non si arrampica diciamo che ne abbiamo abbastanza qua nemmeno solo promettimi che non ci saranno ragni promettertelo vorrei ma spesso la realtà è deludente molto deludente vabbè ha capito che la Naughty Dog ovvero cane arrapato piace troppo fare scenari apocalittici e ci sa fare per carità ok forse il passaggio l'ho trovato sai deve essere questo ok destra e di qua gira 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 eccolo qua che crolla e lo sapevo nonna che culo posso andare avanti grazie quello funzionerà come immaginavo e vedi ti ha aperto il passaggio ehi aspetta shhh altri bastardi in vista non mi direi che gli danno fuoco stanno facendo bruciate questo posto oh no salle dobbiamo andarcene eh facile a dirsi come sempre a sti ragazzi piace infognarsi bruciate questo posto nei posti più sperzi ciao te pensavi di avere a che fare con un coglionazzo e ti sbagliavi proprio e come se ti sbagliavi bastardo oh no ok che ti fai tiri fuori il coltello come sei coglione eh sei anche morto da solo meno male non sono morto io più che altro resisti sali ma ne voglio la l'arma quella bella su non si va su di qui aiuto come cazzo lo porto ok dai presto dai miste munizioni merda problemi di vertigini andiamo fermali bastardo frodo ciao certo non morivano e muori morite anzi ti spingo io forza merda niente da fare dove andiamo no non siamo in trappola chi è il bastardo grazie per averci aperto la strada non ti ringrazierò mai abbastanza per avermi salvato in realtà dobbiamo uscire da qui anti-mine ecco si sto bene sto bene più o meno perfetto arrivo subito questo cazzo attraverso qua sopra madonna ok questo sa molto dello scontro finale di uncharted 4 lo ricorda molto così col fuoco vabbè non è uno spoiler perché in realtà raga sul canale l'abbiamo già giocato in precedenza esci fuori esci fuori ma attento di qua si madonna che sfiga un frigorifero ci hanno messo davanti pensate un po' voi sa più che altro il caldo che c'è lì dentro e vaffanculo ops ho sti bestioni qui e daglielo forza grande così a mo dove vado però ok chi è che spara tu bello preso in faccia così proprio neanche in testa in faccia che forse è anche più umiliante ok questa via centrale no 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 ci hanno chiuso dentro ma questo è quello vestito da il famoso Razo Man mi sa che Razo Man invece lui no lui è solo Coglione Man ok per chi fosse un uomo nella serie Razo Man ragazzi è un personaggio molto celebre da me creato in realtà non è da me creato ma da me nominato e vi consiglio di andare a vedere gli uncharted precedenti per capire a chi mi riferisco comunque è anche facilmente intuibile mentre ci hanno sbrato la via d'uscita sta crollando tutto minchia ma anche l'11 settembre 2001 con i ragazzi non era una battuta ma era era una similitudine molto triste la precisione però anzi una sprecisione è questa arma assurda peccato non ci sia tipo l'albero di abilità che ti aumenta la precisione perché e dai però però aspetta forse lì c'è qualcosa non lo so facessi così sì cioè no ma sì su sali sali forza andiamo e dai un altro corri sali è vecchio non ce la fa prendi piglialo vai vai gioco dove veramente la sfiga regna sovrana come già detto mille volte qua almeno siamo al sicuro credo penso e spero oh non li posso sparare per aprirlo no perché non lo posso distruggere che due coglioni perché c'è andare di qua vero esatto belli i miei proiettili e io coglione che pensavo fosse anche finita sono loro questo posto sta per crollare ok godo cerchio cerchio e munizioni ma sto bastardone qua via ok pensavi eh di avere a che fare con un coglioncello ma in realtà il coglioncello eri esattamente su e ciao ti ho colto alla sprovvista vero ammettilo ammettilo che non te l'aspettavi te vabbè da sto qua mister felpa bianca ciao te sposa in tasca tanto ok sali c'è una soluzione dopo una via d'uscita altro che soluzione lassù dove ok forse qui dovrebbe essere qua su vorrei capire come ci si arriva ragazzi ah ok ok qui è che sono un coglione io ovviamente come tocca una cosa muore c'è una scala forza forza la nostra salvezza forza sali andiamo madonna che roba merda via su 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 bravo hanno ridotto in brandelli sto posto no la visuale è così no la visuale è così no non so dove cazzo andare va bene così è meglio andiamo ok ci andiamo dal palo che stranamente non brucia anche se tipo sarei stati torri esposto al sole ma per l'ora è freddo e adesso crollerà giù tutto sicuro state a vedere oh cavolo ci è mancato poco stai bene oh sì meglio di sempre sì dammi un secondo tendi a scordarti che ho 25 anni più di te pianta la sei più forte di un toro 65 non lo so che fretta c'è ci credono là dentro per un pelo eh no ammetto sto perdendo il filo puoi ricordarmi perché lo facciamo no 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 risparmiami un'altra storia del tipo sono troppo vecchio per queste cose Nate questi tizi fanno sul serio sì e allora Hans era capito vorresti arrenderti ora nessuno ha mai parlato di arrendersi allora smetti di fare come se stessi morendo ok senti ragazzo t'ho coperto le spalle per vent'anni non me ne vado da nessuna parte è ovvio voglio solo assicurarmi che lo stiamo facendo per i giusti motivi hai fatto una questione di orgoglio di tutto questo sei più avventato ti ho addestrato meglio di così finirai per farti ammazzare merda diavolo ci farai ammazzare tutti no tranquillo oh no cosa Katra e Kro salisse seguivano noi avranno seguito anche loro vanno avvertiti già e andiamo subito in Siria spero in Siria loro in Francia comunque Siria Masiaf no magari che poi Masiaf è in Siria vuole tanto sapere in che città siamo però così per curiosità sono ancora irraggiungibili qualcosa deve essere andato storto anche perché comunque per diritti da tori non potrebbero coprire la fortezza di Assassin's Creed anche se vorrai tanto qualche ora prima che arrivino le committive di turisti meglio muoversi la catena è rotta ok ora sappiamo di non essere i primi si finché Carlo e Talbo ci credono morti abbiamo il fattore sorpresa lo sprechiamolo esatto ok ci intrufoliamo scopriamo dove tengono Klo e Katra tengono viva l'ottimismo sto solo dicendo che non mi sembrano sono i tipi che prendono ostaggi per ora proviamo con la migliore delle ipotesi ok liberiamo Katra e Klo e usciamo tutti e quattro di soppiato si come no usciamo di soppiato e di soppicchiere potremmo farcela battuto orribile e ok ragazzi capitolo 8 la cittadella e lo faremo ovviamente la prossima volta grazie a tutti